Il Parco San Bartolo si è trasformato in pochi istanti da bellezza naturalistica a luogo della tragedia. Non c'è stata nessuna speranza da parte dei soccorsi di poter recuperare vivo Gugliel Morici, pensionato di 61 anni e residente a Montecchio, che ieri mattina scivolando da un dirupo sul monte di Pesaro è precipitato nel vuoto per circa 100 metri. Amante della bicicletta e dei percorsi immersi nel verde, anche ieri verso le 9.30 del mattino stava pedalando in sella la sua mountain bike nei sentieri del Parco San Bartolo, quando ad un certo punto si è dovuto fermare per un imprevisto. Il buco ad una ruota l'ha costretto a scendere dalla bici per cercare di ripararla, ma da lì a breve si sarebbe consumato il misfatto. I familiari non vedendolo rincasare per l'ora di pranzo e non essendo stati contattati dall'uomo per un possibile ritardo, hanno dato l'allarme ai carabinieri che di conseguenza hanno avvisato i vigili del fuoco. Arrivati sul posto sono partite le ricerche del 61enne, cercando il punto esatto attraverso delle indagini. Ed è proprio a seguito di alcune indagini che i vigili del fuoco si sono ritrovati nella zona vicino al camping Paradiso, dove due curve prima l'uomo aveva bucato la gomma. Un luogo affascinante del parco, ma allo stesso tempo pericoloso, fatto di curve e sentieri inclinati e dissestati, l'ideale per gli appassionati di mountain bike. Ed è proprio in quel punto che verso le 17 è stato rinvenuto il corpo dell'uomo ad una profondità di circa 100 metri, quasi in fondo al dirupo. Una pendenza troppo elevata per i vigili del fuoco che hanno necessitato dell'aiuto di un elicottero proveniente da Bologna per poter recuperare poco prima di cena il corpo ormai senza vita di Guglielmo.